Peppe Di Bari, questa nuova avventura con il Foggia a calcio, partita più o meno da una settimana, qual è il primo bilancio dopo pochi giorni? Sicuramente siamo ancora indietro perché i lavori sono appena cominciati e quindi si cerca pian piano di costruire qualcosa di positivo. Quindi cercheremo comunque di tirare su, di allestire una squadra che ci permetta, non dico per la Coppa Italia, ma almeno per il campionato, una squadra che possa presentarsi al meglio durante il campionato. Ma sappiamo bene che comunque dovremo punterlarla gradatamente, tempo al tempo, perché purtroppo in questo momento siamo in netto ritardo. Dunque puntelli che potrebbero arrivare anche in questi giorni, visto che il mercato è ancora aperto, quindi ci potrebbero essere altri colpi che potrebbero riservare il Foggia sul mercato? In questo momento diciamo che ancora nessuno ha firmato perché siamo in attesa dei tesseramenti. Abbiamo trovato degli accordi con alcuni giocatori e ovviamente ora dovremo metterli su carta, quindi dovremo tesserarli. In questo momento ci sono delle trattative in corso, insieme all'allenatore stiamo cercando di individuare quegli elementi che ci possono dare una mano per poter affrontare al meglio questo campionato. È ovvio che bisognerà avere un po' di pazienza. La prima sfida questa di Coppa a Termoli dove si avrà un Foggia sperimentale? Sicuramente. Io lo chiamo allenamento, anche se è normale che cercheremo di fare una buona figura, ma sappiamo bene di essere in grossissimo ritardo, in netto ritardo sulla tabella di marcia. Quindi coloro che scenderanno in campo cercheranno di dare il massimo, ma sotto forma di allenamento. Prima di chiederti la fatidica domanda dell'obiettivo stagionale, riprendiamo un punto cruciale, un caso che è scoppiato in questi giorni, quello legato alla questione dello stadio. Sì, effettivamente c'è questa questione, è una cosa di cui non mi sto interessando perché ci sono altri problemi a cui pensare. Io mi auguro che possano sistemarlo prima possibile. C'è questa querelle tra il Comune e Casillo. Mi auguro che nel più breve tempo possibile si possa trovare una soluzione anche per il bene del Foggia, per il bene anche della città. L'obiettivo stagionale di questa squadra, anche se, ripetiamo, è tutto in fase di allestimento, è un cantiere aperto, però penso che un minimo di obiettivo già ci possa essere all'interno della squadra e all'interno della società stessa. C'è sicuramente un programma, una progettualità, un programma di tre anni. È ovvio che quest'anno cercherai di fare, cercherai, più che cercherai, proverai a fare qualcosa di interessante. Quello che accadrà, quello che verrà, poi sarà il campo a dover parlare. L'ultima cosa, qual è stata la sensazione tua, personale, di ritornare a Foggia? Grande sensazione, grande motivazione sia da parte mia che anche del mister, considerando che qui abbiamo vissuto degli anni importanti. E' ovvio che cercheremo di sfruttare questo entusiasmo e questa grande motivazione, perché secondo me sono una marcia in più. Poi è normale che il ritardo può in qualche maniera creare qualche scompenso, però cercheremo di metterci in riga. E cercheremo di accorciare nel miglior modo possibile i tempi, considerando che i giocatori ce ne sono in giro. Bisognerà guardare il budget, ma guardare quella che è la realtà di oggi, che comunque tantissimi soldi non ci sono. E quindi si cercherà di allestire una buona squadra. Un nome solo per il mercato, uno solo? Ma in questo momento ci possono essere tanti nomi, non te ne faccio di nomi anche perché sarebbe stupido da parte mia. Stiamo trattando, stiamo trattando i giocatori. Ci sono giocatori che si sono aggregati a noi e che comunque vogliono sposare questo progetto. Quindi speriamo di poterli portare dalla parte nostra e poterne parlare a breve quando firmeranno. Grazie.